L'ultima bufala che è stata creata online è quella di inviarvi delle email a nome di una persona che voi conoscete bene e che fa parte del giro delle vostre conoscenze e che voi sapete che è normalmente una persona che viaggia molto in cui con aria accorata vi informa che purtroppo si trova a Madrid oppure a Londra oppure a Francoforte e ahimè gli sono state rubate le carte di credito, il passaporto, ogni documento e ogni denaro e vi chiede cortesemente di fargli un piccolo prestito inviandogli per moneygram dei soldi per poter prendere il primo aereo per poter ritornare in Italia. È una bufala amici miei, non ci cadete, è una bufala questa volta costruita in maniera abbastanza credibile perché coinvolge persone che voi conoscete normalmente molto bene e sapete che sono dei grandi viaggiatori. Grazie 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 Grazie